Nella serata di lunedì i carabinieri di Rendi hanno arrestato due pregiudicati, entrambi residenti nella città d'oltre Campagnano con l'accusa dei reati di associazione, di stampo mafioso, tentata estorsione e rapina. Si tratta di due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Alberto Superbo di Castro Libero, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e dovrà espiare la pena residua di 5 anni, 6 mesi e 13 giorni e Umberto Di Puppo, anche egli sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno con una pena residua da scontare di 6 anni e 10 mesi di reclusione. Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Cosenza.